quarto parametro che per me diventa estremamente potente insieme agli altri tre di prima è la differenza che c'è fra risultato e obiettivo il parametro si chiama dipende da me perché molto spesso le persone cercano dei risultati ma non si rendono conto che il risultato è parte del meccanismo se tu raggiungi tuoi obiettivi e questo è limitante perché magari una volta poi non raggiungere un risultato ma magari raggiunto i tuoi obiettivi e quindi hai bisogno di essere fiero di te stesso perché comunque tu il tuo meglio hai dato hai semplicemente scoperto che qualcuno è un passo oltre di te quindi significa che da domani ti puoi allenare per poter crescere ancora di più e anche qui è importantissimo perché ti aiuta a prendere tutte le sconfitte come insegnamenti come il fino oggi si è arrivato qui ma domani riprendiamo al concetto che abbiamo detto prima che il tempo va in avanti domani puoi ancora crescere e quindi l'avversario ti diventa un qualcuno che ti istruisce sul come poter crescere la differenza appunto che c'è fra risultato e obiettivo è il dipende da te fa in modo di verbalizzare degli obiettivi che dipendono solamente da te che siano dal punto di vista tecnico che siano dal punto di vista tattico che siano dal punto di vista atletico che siano dal punto di vista mentale fa in modo che questi obiettivi dipendano completamente da te o da qualcuno che all'interno del tuo staff magari l'allenatore che ti aiuterà a migliorare quel gesto tecnico dal preparatore fisico che ti aiuterà a migliorare quel gesto fisico dal preparatore mentale che ti aiuterà a raggiungere quello che vuoi dal punto di vista mentale quinto parametro fondamentale degli obiettivi è datti un premio al suo raggiungimento perché è importante darsi un premio perché bisogna valorizzarsi ricordati questa cosa importantissima una delle tante che appena preso all'interno del nostro bellissimo percorso più valorizzi te stesso più inizia a credere di valere più cresce l'autostima e soprattutto più ti spingi verso il meglio della vita datti un premio è importante per tre motivi fondamentali il primo quando dai tutto te stesso per qualcosa significa che stai investendo tempo risorse e stai sacrificando te stesso il sacrificio che significa rendere sacro è anche comunque una spesa e quindi hai bisogno di premiarti per poter ricordare a te stesso che tu sei l'unico che può permettere di raggiungere questo obiettivo e quindi hai bisogno di ricordare a te stesso quanto vali secondo motivo importante è quei giorni in cui non ne hai voglia perché esistono esistono anche per me che sono un mental coach ci sono i giorni che mi sveglio che non voglio di fare niente avere un premio mi motiva a fare quello che voglio quindi piuttosto che buttare via una giornata come abbiamo detto sprecare tempo investirò il mio tempo non tanto in funzione dell'obiettivo ma in funzione del valore del premio che mi sono dato a me stesso e quindi mi permetterà piuttosto che buttare via una giornata di realizzare qualcosa di importante e io so che quei giorni è proprio in quei giorni che io cresco nella mia forza di volontà e nella mia determinazione terzo è super bello perché permette di costruire nella mia mente un grande vantaggio come nella mia anche nella tua se io raggiungo un obiettivo e mi do un premio la mia mente incomincia a pensare wow mi dai un obiettivo più grande così mi premerei maggiormente e questo permetterà sempre di poter alzare l'asticella cioè quell'1% che abbiamo visto prima per permetterti di essere sempre costantemente motivato e voler credere di poter ottenere il massimo possibile e quindi arrivare nella vetta della montagna ultimo parametro si chiama ecologia cioè quando io raggiungo un obiettivo non solo io devo stare bene ma tutte le persone che sono nel mio ambiente avranno un beneficio pensa all'interno di uno sport di squadra ma anche all'interno di uno sport individuale raggiungere un obiettivo fa in modo che tu voglia condividere la gioia di averlo raggiunto con le persone più vicine a te e quando tu sei entusiasta e porta entusiasmo all'interno di un ambiente che cosa succede questo ambiente cambia ecco il vantaggio di avere un obiettivo puramente ecologico noi essendo animali sociali vogliamo raggiungere i nostri obiettivi perché la primo bisogno fondamentale è volerlo condividere con le persone che amiamo quello che dico sempre è che un paradiso da solo non è un paradiso un paradiso è vero solo se condiviso quindi è importantissimo che all'interno del tuo obiettivo ci sia l'ecologia perché perché devi sapere che questo obiettivo ha bisogno di nutrire tutte le persone che stanno vicino a te e cosa importante la tua storia il raggiungimento di tuoi obiettivi come quello di tutti i campioni può ispirare gli altri questa è l'ecologia massima grazie a tutti